Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente a questo video, oggi siamo qui su Secret Neighbor Grazie mille, grazie mille alla TinyBuild che mi hanno dato la mail per poterci giocare, vi ringrazio tantissimo Oggi siamo qui con Veltro No, sono dentro la mia torcia No, la torcia Ragazzi, cos'è Secret Neighbor? È la versione multiplayer ufficiale di Hello Neighbor E per giocarci bisogna avere una mail che ti mandano gli sgruppatori per poter provare i giochi in anteprima Oggi siamo qui con Veltro, praticamente è un po' come venerdì 13 Alcuni ragazzi saranno sia il cattivo, cioè il vicino, e alcuni saranno anche le persone normali Io e Veltro dobbiamo cercare un sacco di chiavi per poter riuscire Allora bro, io direi che... Oh, una chiave! Vai, 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 raccolgo le da me, da me No, la prendo io Vai però, oh, non ti fermare Grazie mille TinyBuild, vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio No, con la mamma mia Dove vai? E vai, un'andata bro Un'andata è andata, la c'è però Aspetta, andiamo qui fuori Ora secondo me questa zona è interessante, vi un po' vedere Cos'è stato? Cos'è stato bro? Non so, è quello che vado non fatto Giuliano Gaming Abbiamo 15 minuti ragazzi Oh, l'è dietro! Guarda Sto vincendo un po' Guarda, cosa c'è qua dietro? Fa vedere un po'? Guarda, dove sei Ale? La casa del... Non c'è, vabbè Dove sei te, bro? Io sono l'ingresso Sono qua, sono gli attuali Vieni allora, entro Dai giù Oh, parto la chiave! Grande! Guarda, vediamo che ce la facciamo, guarda Allora, andiamo a esplorare un po' tutta la zona Vai, io ti seguo, eh Ok, bro, vieni Apre un po', guarda tutto Se riesco a trovarla Niente Qua ci sono già andati Andiamo, andiamo di sopra Allora, andiamo di sopra Tento che potremo trovarci Il vicino davanti alla spalla Giuliano Gaming Mi porta... Non c'è l'inglese Fatte, chiama inglese Oh, ho digitato, mi piace Eh? Digital Rebellion non mi piace Digica lui Non c'è niente in mano, fa E' sospettoso Cioè, non cerca E' vero, hai ragione Potrebbe essere lui Se voglio un po' seguire Anche secondo me è lui Dove è andato? Giuliano può? Effolo Però aspetta che non ti vedo Dove sei? Guarda che ce l'hanno tutti con lui Dov'è, frate, dov'è? Sono qua Ehm Eccoti, sono qua Dov'è? Ci ce l'hanno tutti con lui Eh, guarda, lo sta tutto in disparte È vero? Potrebbe essere lui Tutti che ce l'hanno con lui Qua ci arriva e ti ammazza Attenzione Potrebbe essere davvero lui Lo scogliamo su Scusa, ma quanti siamo nel server? Non si può vedere Eh, sarebbe un 6 Eh sì, siamo in 6 No, è un piccolo cieco qua Già, andiamo giù Allora, guarda Digitare Questa parte di qua non l'abbiamo ancora vista Viene un po' Non so dove è andato, fra Il coso che... È sparito Sono qua, qua Andiamo a spiegare Sparito? No, Digital Rebellion non mi gusta Però quindi qua, vieni qua Oh, ma qua ci sono delle cose Che figata, tutto con te, ma all'unico È un belissimo Però va a prendere tutto, bro Eh, abbiamo ancora 11 minuti, però, per trovare tutto Eh, vabbè Ma andiamo a vedere quante che vi vangono Magari qualcuna, tu va Un po' cassetti Niente Prova a vedere, va a vedere, animo Apri, andiamo qua In sostanza è fighissima, bro Abbi, abbi, abbi i cassetti Oh, che l'altro, l'ho trovato Oh, la chiave, la chiave Prendi, prendi Vai No, aspetta Guarda, fermo, ok, fermo Old key, ok, ce l'ho Andiamo, andiamo, andiamo Prendi, prendi Cos'hai lasciato il coso? Vai, dai, corri, 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 corri Dov'è? Qua? Qui, qui, qui Ok, vieni No, non è qua Eh, scusa, quella è l'altra parte Qua, 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 va, viene Qua sei, hai risalito? È qui, bro, sì, sì, sì Cade le scale Ok Vai, 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 corri, corri Dov'era? Aspetta Era qua la porta Un po' qua dietro era Sì, tipo lì, non mi ricordo Devi seguire la porta So che devi andare dalla porta Tipo qua Vabbè, segui la porta Segui la porta Qui, 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 qui Ce l'ho Vieni, ci sei? Oh, digital è meglio Non mi gusta questo qua Non mi gusta Guardalo Oh, manca l'ultima Sì, non ci credo Manca quella sotto No, manca quella sotto Eh, sì, manca quella sotto Mannaggia Non troverai quella sotto Aiuto Eh A me digital reborn Non è che Rebellion No, sto qua Mi non ispira, raga No, sto qua Sesto qua Cerca, sto qua Sesto Digital rebellion Non mi ispira Eh, beh, è sospettoso Un botto Bro, dove sei? Ci ho perso Non ti vedo più Eh, mi sono perso Io sto cercando Eh, anche io cerchiamo Cos'è? Cosa, cosa Oh, guarda che il face Oh, manca 9 minuti Oh, manca 9 minuti No, forse trovate Cos'è? Aspetta che forse trovate No, guarda Forse questo cassetto Una banana Ho trovato una banana Ho trovato un martello A casa Una banana Beh, se posso usarlo Un martello Guarda che forse Secondo me qualche Secondo me è in qualche cassetto infame O in qualche posto Tipo che Oh, ok Oh, anche Paolo Chi ha fatto che Che non posso Calma a stella Martello di torr Quindi, niente Vieni bro Forse potrebbe essere Non ho idea Apri tutti cassetto Sì, bravo Apri tutto Apri tutto Contrattutto Forse qui No, qua, no Qua No Eh, ho già aperto io Niente Che criti sto posto Qua niente Niente Maia Dove andare Eh no Fa vicolo cieco Però non so dove andiamo Dove possiamo andare Come vicolo cieco Dove è vicolo cieco Qua Eh, qua che c'è tutto Oh Che cosa fa questo Oh, ma cosa fate Sul tetto Sul tetto Come Aspetta, aspetta Forse so come fare Aspetta, fermo Fermo Come si lanciavano Così, guarda Vieni, vieni Sul tetto Vai, vai, vai Andiamo Ma non è che questo Non ci credo Ma si può Aspetta Oddio Si può Oddio No, è troppo infame Stasera Aiuto Esco di me qua Guarda un po' Bravo Che qua c'è qualche zona Sicuramente che non abbiamo Però Questa è stata La abbiamo già vista Qui bro Dobbiamo tornare qui Dalle piante Secondo me Aspetta No, che qua Qua è da suicidio No, va Che seguito Oh, qua Cosa Che figo raga Poi dobbiamo esplorare anche questo Martello Cosa c'è qua Ah, sì, sì La cosa Aspetta, aspetta Bravo, bravo William Diossi raga Proprio come a scuola Io c'ho Il piede di porcus Eh, non serve però No, forse si aspetta No, non credo che si Scusa Oh, non so Oh, magari fuori Vieni Scusa La bicicletta Che qua bro Quei là Oh, manca 7 minuti Bro, sbrigati Sbrigati Ma sento cammina Vabbè Dai Oh, ma ti chiamavano Ti chiamavano No, no, no È mia madre Che si chiamavano Nessun Raga Secondo me Oh, no Il giugnano gaming Oh, guarda qui No, questo mi spira Non so, sono tutti qua A me Giuliano Gaming Oh, ma Sono tutti qua però Manca, indovina Cosa la manca È lui, è lui, è lui Dov'è? Veltro, vieni con me a esplorare Vieni con me Veltro Oh, dove sei? No, è qua Anche lui Detro di te, frate Detro di te Detro di te C'è la chiave C'è la chiave Apri Apri Maledetto Dammi la chiave Vabbè, me la lascia Dai la chiave Vai, Veltro Ma dov'è allora? Vai, vai, vai L'abbiamo aperto Sì Ma scusa, ma allora Dov'è? Dov'era? Infatti, fra tutto Dov'era? Che chi era? Qual'era? Dal primo momento che l'ho visto Sapevo che era l'unico Ma sì, cioè l'unico che stava in disparto E erano tutti attaccati Era ovvio che era l'unico Maiale, vieni E ritorno alla lobby Già Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Se questo video vi è piaciuto Mettete un bel pollicione su Dato che questo video è particolare Dato che questo gioco L'avete ancora visto Ma è veramente divertente Io ringrazio ancora Timewood per la mail Che vi ho dato Per poter scaricare il gioco Io ho sei codici Quattro codici ancora Per poter scaricare il gioco Rapidamente Quindi il primo che scrive Nei commenti sotto Una parola difficile Anzi, diciamo così Il primo che scrive La parola segreta Che dirò in fondo al video Così sarà costretto a vedersi Tutto il video Avrà il codice Ok? Uno dei codici Lo regalerò a chi avrà Appunto questo Che scriverà per primo Che scriverà per primo Una parola che sarà in fondo al video Ma quindi ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Un bel pollicione su Che mi renderebbe veramente felice E Veltro Saluto anche te Che sei lì per grattare La terra Quindi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi